C'è ora una skin gratis per tutti i giocatori, messa anche da dove riceverete 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento Perché se questo video raggiunge appunto i 50 like andrò a regalare un codice per 1000 VBAC Mi raccomando se ti va a supportarmi col codice di codice di coding gamer, c'è una 2 E la skin gratis è esattamente questa E Light Archetype doveva essere una skin che doveva uscire nello shop insieme alla Lego, quindi alla versione Lego come state vedendo in basso a destra Ma Fortnite probabilmente la metterà o forse soltanto per i giocatori da PC E appunto andremo nel negozio, dobbiamo andare esattamente qui in fondo E tipo qui sotto dovremo trovare appunto il bundle a 0€ Ricordate appunto le skin a 0€ come ad esempio la Renegade Rider Fuoco? Beh comunque la skin serie lava con tutto il suo bundle Oppure Desdemonio Infernale? Beh a breve avremo un'altra skin Appunto credo da cosa stai aspettando, commento e raccolti di se vuoi dire un regalo Ripeto ancora, codice di codice di codice di codice di gamer 5.32 per supportarmi Quindi c'è ragazzi, bye